Ma siamo saltati allo stesso frutto. E che significa nonostriva giù? Gli abbiamo vissuti? Io so che li abbiamo vissuti e sono stati meravigliosi. Ma li abbiamo vissuti davvero in corse. Io ho fidanzato che mi ha spiegato in albergo e che sarà distrutto quando scoprirà il tuo marito. Lui mi tutta in amore con me e poi dormì dal tuo marito. E questo è il tuo progetto? Cosa è stato? Ho il testo che non ho superato. Io ho fatto una promessa a un uomo. Lui mi ha dato un anello e io gli ho dato la mia carina. E adesso la tua parola se ne è andata a schiavo, non mancherà. Io non lo so, scoprirò quando ho parlato con lui. Qui non si tratta di mantenere le promesse e non si tratta nemmeno di seguire il cuore. Si tratta solo di garazioni. Che cosa vorrebbe dire? Soldi! Ma di che stai? Lui ha un sacco di soldi! Io ti odio, ho preso il tuo posto. Dai io odio, se te ne vai io ti odio. E allora? Allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dobbiamo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te. Io voglio tutto, per sempre. Io e te, ogni giorno della nostra vita. Vuoi fare una cosa per me? Prova a immaginare la tua vita. Fra trent'anni, fra quarant'anni, come stai? Se lo vedi con noi, va! Vai! Te ne sei andata una volta, soproprio però anche alla seconda. Se è quello che realmente è a voi. Ma non scegliere la strada più facile. Quale strada facile? Non esiste una strada facile, comunque finisco per ferire qualcuno. Smettila di pensare a quello che voglio agli altri. Tu che cosa vuoi? Non è così semplice! Tu che cosa vuoi? E non è così semplice! Ci che cosa vuoi? Non è così. Ti e che cosa vuoi? 3 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no